L'ultimo nato in casa Green Vocation è POTOS 003, l'idropittura capta formaldeide. Si tratta di un'idropittura per interni di nuovissima generazione, traspirante, inodore, che dona alle superfici trattate un particolare aspetto coprente supermatta. Applicata su supporti quali intonaci di finitura calce, calce cemento, gesso e cartongesso, sia nuovi che già tinteggiati. Il suo impiego va oltre la protezione e la decorazione dei supporti. È infatti una pittura ad alto contenuto tecnologico, che grazie all'innovativa formulazione capta e trasforma la formaldeide presente all'interno degli ambienti in composti più stabili e meno volatili. Come sappiamo, la formaldeide è tra i principali voc presenti all'interno delle abitazioni, nonché tra i più dannosi. Aiutare ad abbatterne la sua concentrazione migliora sicuramente la qualità dell'aria, a tutto vantaggio del benessere abitativo, soddisfacendo in tal modo le esigenze degli operatori del settore e di un consumatore sempre più consapevole. POTOS 003 è quindi una pittura intelligente. I test effettuati presso un laboratorio indipendente dimostrano che una superficie trattata con POTOS 003 riduce fino al 70% la formaldeide libera presente nell'ambiente, con un'efficacia prolungata nel tempo e azione immediata in 24 ore. POTOS 003, come tutti gli altri prodotti della linea Green Vocation, ha ottenuto l'etichettatura A+, secondo la normativa francese, relativa alle bassissime emissioni di VOC. È inoltre possibile colorare la base bianca di POTOS 003 scegliendo una selezione di tinte della mazzetta per interni FASSA in Living Pains. Vi ricordo che POTOS 003, insieme alla lastra in cartogesso, Gipso Aria HD e lo stucco Aria Joint, fa parte del progetto Aria Indoor per ridurre la presenza di inquinamento all'interno degli ambienti che abitiamo.